L'Easy Builder Natural Pink è un gel costruttore trifasico color nude naturale pescato è adatta a tutti i tipi di lavori, refill, copertura e allungamenti, consigliato anche per quegli estremi è un gel resistente e rigido che mantiene bene la pinzatura della curva C è consigliato pinzare dopo circa 30 secondi è consigliato per la ricostruzione in cartina e soprattutto per trattamenti di onicofagia essendo un cover è stato inventato per coprire le imperfezioni dell'unghia, lo scalino della tip o per creare il muretto in una french manicure questo gel infatti ha una coprenza del 100% questo gel non crea filamenti durante il prelievo dal barattolo sembra molto difficile da lavorare ma essendo tisotropico si autolivella quando lo si lavora facilitandone così la stesura è un gel dall'alta densità ma comunque autolivellante non cola e aiuta a creare una perfetta bombatura in maniera facile e veloce è un gel privo di acidi che catalizza in lampada UV in 2 minuti e in lampada diodi in 60 secondi can still hear us singin' grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti